Grazie al professor Caligiuri, grazie a chi questa sera ha assistito a questo vivace dibattito riguardante la Cina e la Via della Seta. Quello che è stato fuori questa serata è certamente condivisibile, cioè che la Via della Seta è un progetto non solamente strutturale, ma è un progetto anche economico di conquista dell'Occidente. Un altro tema che è emerso è quello del problema delle governance. La governance occidentale sono deboli e certamente la politica cinese che è più aggressiva sta cercando di inserirsi in questo vuoto. Dobbiamo vedere se comunque l'Europa è in grado di rispondere o dare delle risposte a questa sorta di invasione pacifica e naturalmente dobbiamo vedere anche se e come l'Italia riuscirà in ogni modo a gestire questa invasione cinese o se comunque vuole di subirla. Grazie a tutti.